La collaborazione con Silent Challenge risale al 2006 quando con il suo capitano Viviero Cappuccini abbiamo organizzato una regata per i nostri migliori clienti a livello nazionale e internazionale. Sette team, sette imbarcazioni, una regata a tutti gli effetti. L'evento è stato un grandissimo successo perché a bordo di una barca succede sempre qualcosa di speciale. Si abbattono quelle barriere che ci possono essere nel momento in cui ci si trova a relazionare con i decision maker delle più importanti aziende a livello nazionale e internazionale. Nel momento in cui Silent Challenge ha capito che questo tipo di evento poteva diventare un format nel 2010 e quando ha lanciato la prima edizione di Hotel Change Silent Challenge, Star Hotels ha deciso immediatamente di aderire. Silent Challenge ha capito prima degli altri che il successo di questo tipo di eventi non passa, non dipende dal numero di buyers coinvolti ma dalla relazione che tu riesci a creare con questi buyers. E sicuramente a bordo di un'imbarcazione è tutto molto più semplice. Quindi cosa dire, format, qualità dei buyers e costo contatto fanno in questo evento un evento di grandissimo successo che come gruppo Star Hotels mi sento di consigliare a tutti voi. Grazie.